In questa puntata, Regione modifica dello statuto Morte sul lavoro Covid-19, il caso Vlahovic Cargo Villaggio di Pisa, il Movimento 5 Stelle chiede attenzione La Regione modifica lo statuto, l'Aula dice sì. La proposta di legge, approvata in seconda lettura con 24 voti favorevoli di Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, contrari Fratelli d'Italia, Italia Viva e Gruppo Misto, non partecipano al voto il Presidente della Commissione Affari Istituzionale, Giacomo Bugliani, del Partito Democratico e la Lega. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della Giunta regionale, presentata a questo Consiglio, più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché a distanza di tempo quella legge è stata riproposta in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto perché ritenevo tutto questo una offesa all'istituzione che rappresentiamo. Le nuove norme sono quelle che erano già state approvate ad ottobre in prima lettura. Il Presidente Gianni potrà disporre, se vorrà, di un sottosegretario da scegliere tra i consiglieri regionali, quindi senza aumenti di nuove indennità perché questi non ci saranno. L'ufficio di Presidenza avrà due componenti in più, come è stato sottolineato dalla minoranza, come maggiore anche garanzia di presenza e del funzionamento equilibrato del Consiglio regionale. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni. Il non assessore, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di Presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto, che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di Presidenza, una maggior rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima lo abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare perché comunque è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti ma nel contempo è coerente della nostra battaglia. Nel merito della questione dicevamo che il nono assessore non serviva, dicevamo che i sottosegretari se hanno un senso di esistere devono essere esterni e non interni e soprattutto ponevamo una questione, quella della parità di genere, che secondo noi è dirimente, da istituire in termini statutari per renderla vincolante alla politica. Troppe volte i partiti si riempiono di questo concetto, poi quando è arrivato il momento di votare il nostro emendamento siamo rimasti soli. Però questa è anche la soddisfazione di essere un partito che sarà sempre e comunque sentinela del riformismo di questa regione, una regione che deve essere coerente con la propria storia ma anche con gli impegni presi con i cittadini toscani. La modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose. Che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze. Per esempio l'allargamento dell'ufficio di presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso tranne il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in Aula e scopriamo che Italia Viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il Presidente della Commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto, a quel punto, scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Ecco perché abbiamo deciso di votare contrari anche noi. Questo nuovo Statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità, perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione. Sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a quanto vediamo dal voto. Anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare. Ed evidentemente il 5 Stelle, che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta, oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche l'UMI sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. La Lega e Fratelli d'Italia, che alla prima votazione avevano votato favorevolmente, stamani mi hanno comunicato alle 10, prima Fratelli d'Italia, poi anche la Lega, che non avrebbero votato. E quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto, e anche questo mi ha sorpreso, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula, voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12, mentre stavamo votando. Quindi, nessun cambio di maggioranza. La maggioranza è, perlomeno dal mio punto di vista, è solida con Italia Viva. È evidente che il Movimento 5 Stelle, dopo il voto sui grandi elettori, ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando avanti, ma detto questo, non cambia nulla. Vedo purtroppo, e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale, una grande frammentazione nel centro-destra. Morti sul lavoro, Mazzeo, impegniamoci a fermare questo terribile stilicidio. Il Presidente del Consiglio regionale ha espresso il cordoglio e la vicinanza dell'Assemblea ricordando le parole del Presidente Mattarella. L'aula, sul richiesta del capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, ha effettuato un minuto di silenzio. Noi, qualche anno fa, abbiamo fatto un protocollo sul marmo, ve lo ricorderete, in cui sostanzialmente mettevamo anche risorse pubbliche, facevamo lavorare insieme tutti i soggetti interessati. In quel comparto c'è stato un grande calo delle morti sul lavoro. Io penso che questa attenzione, l'assessorato al lavoro e l'assessorato alla sanità, devono metterlo anche per altri comparti, come quello metalmeccanico, ma non solo, abbiamo fatto una legge, come vi ricorderete, quindi ognuno può fare la sua parte, questo è vero, per quanto riguarda i rider. La prima legge in Italia sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che stiamo attuando proprio in queste settimane, in questi mesi, con dei protocolli ad hoc per garantire a quelle ragazze e a quei ragazzi il cui luogo di lavoro è la strada, maggiore sicurezza. Quindi si può fare, si può fare con atti concreti, mettendoci risorse, ma le risorse non bastano, serve, come dire, costruire un perimetro di lavoro comune in cui da una parte c'è il controllo, dall'altra c'è l'informazione e ci sono le condizioni perché questo possa avvenire. Guardate, è drammatico vedere quello che accade, cioè si va a lavorare e si muore sul luogo di lavoro. È qualcosa che io penso che debba toccare tutti noi e per cui ognuno di noi si debba impegnare. Covid-19, caso Vlachovic, l'ASL, Toscana Centro, ha dovuto informare l'autorità giudiziaria. L'assessore regionale alla salute, Bezzini, risponde in aula a un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia. Torselli, il calciatore, si è arriccato a Torino con altre persone, non si sa chi sono, se risiedono nella nostra regione, se il giorno dopo giravano liberi nella nostra regione, seguiremo la vicenda fino alla fine. La vicenda non è seguita direttamente dalla regione, ma dall'azienda ASL Toscana Centro, che avendo appreso dai media, essendo il calciatore Dusan Vlaovic, di un personaggio pubblico, insomma, della sua presenza a Torino, in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere, diciamo, in isolamento secondo le normative, ha effettuato delle verifiche per comprendere se erano pervenute istanze di trasferimento di luogo dove effettuare, diciamo, l'isolamento e tale verifica hanno fatto rilevare, diciamo, che non sembrerebbero essere arrivate all'ASL istanze di questa natura. Sembrerebbero, diciamo, io uso il condizionale perché poi capirete il perché, nel senso che a questo punto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, diciamo, in virtù delle normative sulla violazione di domicilio, sui spostamenti non autorizzati e così via, ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria e sarà l'autorità giudiziaria a fare gli accertamenti, diciamo, che essa riterrà opportuno fare. Il commento è semplice. Le regole sono uguali per tutti. Valgono per Diokovic e valgono per Vlaovic. Penso che chi ha un ruolo e un'immagine pubblica debba, con grande chiarezza, avere ancora più responsabilità di un cittadino che ha meno capacità di parlare pubblicamente. Perché quel gesto è un gesto che può essere ripetuto e moltiplicato. E in un tempo in cui ognuno di noi fa l'isolamento e la quarantena, non capisco perché chi ha più possibilità debba evadere le regole. Credo che sia qualcosa di completamente sbagliato ed è giusto che l'ASL abbia segnalato tutto agli uffici giudiziari. E spero che loro facciano la loro parte velocemente. Cargovillaggio di Pisa. Il Movimento 5 Stelle chiede alla Giunta massima attenzione sul futuro. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, era circolata la notizia che FedEx e l'unico courier che era rimasto all'imponente Cargovillaggio di Pisa stesse per abbandonare la piattaforma pisana. E purtroppo nel giro di due giorni è arrivata conferma che questo è vero. Non farà più il vettore aereo ma si limiterà a garantire trasporti di terra. FedEx era l'ultimo vettore aereo rimasto su Pisa quindi significa che una struttura costruita nel 2011 con più di 10 milioni di euro di soldi all'epoca pubblici perché Sat, la loro società di gestione, era maggioranza pubblica, rischia di giacere inutilizzato. E questo rappresenterebbe un danno per il tessuto economico dell'intera costa che non si potrebbe affrontare soprattutto una contingenza simile. Quindi le notizie che mi ha dato l'assessore purtroppo sono state molto laconiche perché la società si trincera dietro il fatto di essere quotata in borsa. Mi sono permessa però di sollecitare attenzione e confronto con Toscana Aeroporti perché quell'enorme struttura ad altissima tecnologia non giace come cattedrale nel deserto e danneggia ulteriormente il tessuto produttivo di Pisa e della costa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS